Noi dal primo giorno abbiamo subito recepito le stanze del territorio, delle associazioni che si battevano e si battono a tutela e a salvaguardia di quel territorio. Un territorio a vocazione agricola, dove ci sono aziende agricole che vivono della ricchezza della terra, hanno necessità e bisogno di acqua. Questa struttura, questo insediamento, andrebbe a danneggiare a nostro avviso il territorio, perché intanto, pur essendo una zona industriale, non ha i sistemi di depurazione, non ha fognature, mancano sistemi antigenio e soprattutto c'è una carenza idrica. Quindi essendoci una carenza idrica, l'acqua dobbiamo lasciarla al territorio per le aziende agricole. Questo sistema, quindi, che è una piattaforma di trattamento per i sedimenti di dragaggio fluviare e marini, andrebbe a prelevare tanta acqua, andrebbe ad inserirsi in un contesto già gravemente ammalorato, perché qualche anno fa ci fu anche un'ordinanza di chiusura di alcuni pozzi che erano inquinati, a detta delle amministrazioni locali. Io ho presentato un'interrogazione regionale, la regione mi ha detto vedremo, faremo, a giorni ci sarà il nennesimo pronunciamento del comitato via, sembra ci sia stata un'integrazione prodotta dalla ditta che vuole realizzare questa piattaforma, non conosciamo le carte perché non ci danno le carte, vogliamo dire ancora una volta il territorio dice no a questo impianto, fermiamo questo impianto perché ci sono intanto procedure alternative e poi dislocazione alternative in altri posti idoni, questo non è un luogo idoneo.